E' sì che colui che condivide il mangiare E' colui che lavora onestamente E' colui che cerca di aiutare anche le altre persone E se ci sono dei problemi Ricordati che in qualsiasi problema puoi contare su un Sikh Lui è pronta ad aiutarti E lui ha una potenza allucinante Si mette lì davanti come una montagna Davanti al problema e cerca di aiutarti Papà ma come fai a essere così tanto dei Sikh? Tempo fa incontrai un indiano Tu eri molto piccolo E mi hai aiutato tantissimo Mi sa che ti devo raccontare un po' tutta la storia Sì papà dai raccontami tutto sono curioso 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 Grazie.